Ha parlato in conferenza stampa questa mattina il tecnico del Pescara Alberto Colombo in vista del posticipo di domani sera, fischio d'inizio ore 20.30 contro il Taranto. Saranno assenti Pellacani per infortunio e Luca Mora fermato per un turno dal giudice sportivo. Sta invece meglio, abile e ruolabile, il difensore Riccardo Brosco. Il tecnico Colombo in conferenza stampa ha detto in maniera esplicita, giocherà in grosso dal primo minuto perché se lo è meritato si sta allenando molto bene. Per il resto ci sono dei dubbi, soprattutto a centrocampo con Crecco, Aloy e Giabba che vogliono la maglia di Luca Mora. Il Taranto squadra plasmata d'immagine e somiglianza del suo allenatore Ezio Capuano. E poi il tecnico Colombo è tornato anche sulle critiche dopo la sconfitta di Francavilla Fontana. Ascoltiamo i passaggi della conferenza stampa con le immagini di Diego Martelli. La squadra è al completo salvo gli indisponibili di lunga data, quindi Pellacani e lo squalificato Mora. Ha recuperato in toto Brosco quindi non abbiamo altre defezioni. Poi sono ormai da tanto tempo nel calcio, so che molto spesso viene influenzato il giudizio dal risultato. Io ho sempre cercato di portare avanti una linea personale, ma perché sono così, di obiettività, anche quando la squadra magari vinceva cercando di far passare il messaggio che si poteva fare meglio. Mercoledì ci si può essere o ci possono appuntare il fatto che abbiamo commesso degli errori ed è giusto che tu abbia subito la sconfitta. Ma sono d'accordo sul fatto che dal punto di vista propositivo la squadra si sia espressa a livelli superiori rispetto alle ultime partite, dove magari siamo usciti con un risultato favorevole. Non posso aspettarmi onestà intellettuale da parte di tutti, io cerco di metterla, più che onestà intellettuale metto coerenza. Quindi se vedo una prestazione positiva anche dentro una sconfitta ci tengo a sottolinearla. È chiaro che gli errori sono stati commessi, sono sotto gli occhi di tutti, non ci nascondiamo, non vogliamo nascondere niente. Però è stata fatta una buona partita dove, come ho detto, gli errori sono stati presenti. Altre volte siamo stati più cinici o sicuramente più attenti nei dettagli a livello difensivo e non abbiamo pagato magari la mancanza di un'espressione di gioco di buona qualità. Per cui questo. Le critiche fanno parte del gioco, quindi so benissimo che... Non mi sono mai esaltato nelle vittorie perché conosco bene il calcio. Il calcio ti fa cambiare opinione nel giro di una settimana. Quindi noi se in questa settimana, anzi in tre giorni, abbiamo subito due sconfitte le opinioni sicuramente non saranno state positive. Non le ho ascoltate, non le ho lette, ma immagino e presumo perché il calcio funziona così. Poi non è detto che ci sia l'intera platea di chi commenta che abbia questo tipo di visione cioè negativa nel risultato negativo. C'è chi anche ha una visione diversa e ecco il bello è la diversità. Quindi l'accetto perché so che il mondo del calcio è fatto di questo. A volte è difficile dirlo, nel senso che non abbiamo la sfera di cristallo e molte volte le risposte non le abbiamo neanche noi. Abbiamo magari delle presunzioni di idee su delle idee. Chiaro che se mancasse la condizione probabilmente non avremmo spinto fino alla fine. però può anche darsi che abbiamo spinto fino alla fine sui nervi. A volte le risposte non si riescono a centrare l'obiettivo vero e proprio della difficoltà o dell'aspetto positivo. È chiaro che è un aspetto su cui ci dobbiamo lavorare. Io credo che se tu stacchi la spina molte volte poi diventa difficile riallacciarla e mi danno fastidio per esempio i gol subiti a Torre del Greco perché abbiamo staccato la spina. Quindi queste sono disattenzioni. Abbiamo subito due gol per certi versi simili. Il primo col Catanzaro e il primo col Francavilla. Al di là degli errori magari iniziali sui cross ci siamo fatti sorprendere con degli uomini in inserimento. Questo è il dato di fatto. E allora dobbiamo lavorarci. Chiaramente l'aspetto mentale, l'aspetto dell'attenzione è un aspetto determinante. Così come l'aspetto fisico e l'aspetto psicologico. Quindi su questi aspetti nessuno transige. Anche sotto l'aspetto tecnico chiaramente. Non puoi commettere a volte degli errori e quando li commetti rischi di essere punito. Però se mi dovessi sbilanciare e dire penso più mentali, più per fattori di attenzione, attentivi, è un mio pensiero. Non so se è la verità. Cuppone è entrato con il piglio giusto. Però lei ha detto che la squadra nel secondo tempo davanti ha fatto meglio anche rispetto al primo. Quanto c'è in questa fase positiva dell'attacco Cuppone in verticale con Nescano? Lui nasce sicuramente come caratteristiche più da punta, seconda punta. Poi è chiaro, dipende anche da quale squadra, in quale squadra milita. Perché magari spesso ha avuto squadre con possibilità di tanto spazio alle spalle da riattaccare. Dove lui diventa un giocatore devastante, l'ha dimostrato. Quindi poteva giocare anche prima punta. Ma sicuramente in una zona centrale o comunque libero di svariare su tutto il fronte offensivo. Questa è una delle sue caratteristiche, è sempre stata una delle sue caratteristiche. Quindi vincolarlo probabilmente in una certa zona lo mortifichi come qualità. È chiaro che se noi vogliamo un'organizzazione, alcune volte certe posizioni devono essere prese, devono essere ben fissate. E magari lui soffre, tant'è vero che gli diamo la libertà di venire dentro. Io credo che il Pescara, per i giocatori che ha, se abbiamo il giusto atteggiamento, si va oltre il sistema di gioco e possiamo mettere in difficoltà tutti. Quando iniziamo a voler gestire o a perdere delle attenzioni, come tutte le squadre, sono vulnerabili e sono punibili da tutti gli avversari. Diciamo che in grosso si sta allenando bene e sicuramente domani avrà la sua chance, ma perché se l'è meritata, quindi si è riconquistata. E poi anche qui probabilmente c'è chi ha magari bisogno, tra i due vediamo chi, tra Poloscopo, Per, Influenza e Wobben, chi ha bisogno magari di un turno di un bordo.